numero 5 questo termoconvettore è contenuto in uno chassis slime style di soli 9 centimetri di profondità può essere utilizzato da pavimento trasportabile facilmente con maniglie ergonomiche o fissato a parete con lo speciale kit incluso dispone anche di un ventilatore posizionato lateralmente che permette una migliore distribuzione dell'aria nell'ambiente anche nella parte bassa della stanza numero 4 questo termoconvettore elettrico che può essere sia portatile con pratica maniglia che fissato al muro ha una potenza termica massima di 2000 watt a doppia ventilazione con impostazione di tre livelli di potenza e un timer programmabile fino a 24 ore in modalità portatile da pavimento dispone di un sistema di sicurezza anti ribaltamento il livello di rumorosità con ventola attivata è molto contenuto il calore che produce è elevato e l'innalzamento della temperatura si avverte già dopo pochi minuti dall'attivazione trovi il link di questo articolo in descrizione numero 3 molto leggero pesa appena 3,6 kg l'apparecchio può essere spostato da un locale all'altro utilizzando le sue comode maniglie trova posto sul pavimento leggermente rialzato grazie ai suoi pratici piedini e dona un tocco di classe all'ambiente sia in stile classico che moderno lo si può anche fissare al muro è infatti fornito di un kit per il montaggio alla parete numero 2 ha una potenza massima di 1500 watt e si può impostare a tre differenti potenze 0.51 o 1,5 kilowatt l'utilizzo è facilitato dalla presenza del termostato integrato che permette di regolare la temperatura desiderata semplice da muovere dal momento che non fa uso di olio è leggera e riscalda velocemente garantendo un concreto risparmio energetico le maniglie in plastica cool touch consentono lo spostamento della stufa elettrica in modo semplice e sicuro se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 1 l'apparecchio dispone di due funzioni può essere infatti sia termoconvettore per riscaldare sia ventilatore per raffrescare è ideale per superfici di 20 25 metri quadrati e grazie alle due velocità di riscaldamento si può impostare a 1200 watt per un uso prolungato o a 2400 watt per riscaldare in modo rapido e potente si può regolare la temperatura della stanza con il termostato meccanico